Essere genitori di un bambino con disabilità oggi è sempre più un percorso ad ostacoli, soprattutto in termini di servizi forniti dalle istituzioni. Le difficoltà degli alunni, diversamente abili nel sistema scolastico ad esempio, appaiono sempre più spesso come un vulnus incolmabile da nord a sud dell'Italia. Per restare nell'ambito locale la situazione in città appare altrettanto complessa. Ne è un esempio il servizio Asacom, partito lo scorso 8 novembre, ma che ad oggi non è disponibile per tutti gli alunni che ne hanno necessità. Uno tra questi è il figlio di Rocco, 7 anni con un disturbo dello spettro autistico. Il piccolo frequenta la seconda elementare ma dall'inizio dell'anno ad oggi non ha ancora l'assistente alla comunicazione dedicato. Eppure per i bambini speciali come lui una continuità dell'assistenza sarebbe necessaria ogni giorno, un'emergenza sociale silenziosa e risolta che dovrebbe essere affrontata adeguatamente dalle istituzioni, come spiega papà Rocco. Come mai in tutti gli altri paesi comincia all'apertura della scuola e a Gela sempre siamo noi vent'anni indietro. Ora io voglio dire principalmente al sindaco che questi bambini sono bambini speciali e non devono avere un lo facciamo poi, si devono fare queste cose all'inizio della scuola, i soldi si devono trovare prima di partire la scuola perché questi bambini non possono essere messi da parte perché per loro non c'è niente. Io a mio figlio gli faccio fare tutto a pagamento e ringraziando a Dio meno male che c'è il centro autismo alla Madonna del Rosario che dà una mano che deve, è fondamentale e voi mi mettete sempre da parte, l'anno scorso l'hanno fatto partire a marzo fino a maggio fino alla chiusura della scuola e ora quando lo fanno partire di nuovo a marzo e a giugno se finisce il centro. Ci danno la caramella? Per questi bambini la caramella non ci vuole, ci vuole l'attenzione e non si deve tralasciare niente. Le esigenze dei ragazzi si scontrano però con le difficoltà determinate dalla situazione economica delle casse comunali per cui il numero delle ore di assistenza sono state in passato fortemente contenute. Ad oggi in città solo 75 ragazzi su 90-20 diritto stanno soffrendo del servizio. Ogni inizio di anno scolastico rappresenta così una vera via crucis per gli alunni affetti da disabilità con ritardi che condizionano sistematicamente il mese di settembre e che vengono colmati solo dalla buona volontà delle famiglie o di quegli insegnanti che cercano di mettersi a disposizione. Ma anche questo spesso non basta. Questi bambini hanno bisogno di avere una figura che gli dà amore e li sostiene. Non bisogna mettere da parte questo grande problema che c'è a Gela. Perché i soldi si devono trovare e ci sono perché la regione gli sta, gli li dà. Come mai questo a Gela, come mai a Gela a posto di partita a settembre, parte sempre a marzo? Un ritardo ormai fisiologico ma che fisiologico proprio non dovrebbe essere. L'amministrazione però starebbe tentando di colmarlo. Per l'anno scolastico in corso l'assessore ai servizi sociali e all'istruzione, Nadia Gnoffo, è riuscita a garantire il monte ore grazie a delle somme residue dal piano di zona già precettate, ma si sarebbe già attivata con la regione per chiedere che il capitolo venga rimbinguato con le somme inizialmente destinate all'Asacom domiciliare. Fino a oggi il servizio è stato garantito grazie al settore servizi sociali, ma ora bisogna recuperare le somme anche dal capitolo dell'istruzione. Abbiamo già detto con l'amministrazione che il servizio partiva soltanto per quei ragazzi che dovevano recuperare ore per cui è stata spesa la somma residua, ma ci sono altre somme a disposizione delle quali è stato chiesto la conversione. Già abbiamo avuto il benestare da parte della regione per cui come dissetto sociosanitario riusciremo a spendere quelle somme e a destinare quelle somme all'Asacom scolastico piuttosto che all'Asacom domiciliare. Nel frattempo abbiamo precettato ulteriori somme per cui vi garantisco che sono tutte operazioni in itinere che ci garantiranno appunto di poter offrire questo servizio alle famiglie che comprendo bene ne hanno veramente bisogno e hanno necessità che venga attivato prima possibile. Vi assicuro che questo sarà fatto.